Ciao, ci eravamo lasciati con questo gatto che per ora non ha ancora un nome, si chiama ancora Stroke. Cambio nome all'oggetto Grease Pencil e lo chiamo gatto, sono passato in Object Mode, perché magari adesso creiamo un minimo di ambientazione, creiamola però con un altro oggetto Grease Pencil, vedremo che ci renderà la vita più facile. Grease Pencil, lo creo vuoto, ammettiamo di voler sedere un gatto sul cuscino e chiamo questo oggetto Cuscino. Devo andare in Draw Mode e disegnare. Il gatto è bidimensionale ovviamente e i suoi layer determinano il modo in cui vengono visualizzati. Cuscino per ora non ha alcun layer, avrà un layer anche lui per le linee e uno per il colore, questo posso già immaginarlo, è il metodo che abbiamo usato l'altra volta, quello delle linee sta sopra. Allora io voglio disegnare un cuscino, una parte del cuscino un po' più indietro del gatto, allora attivo il cursore, che per ora non ho, solo per poter spostare leggermente il cursore dietro il gatto, in maniera tale che adesso, quando disegno non su Origin ma su 3D Cursor, andate a vedere la lezione su come posizionare i segni, se adesso disegno, facciamo anche un layer apposta per lo sketch momentaneamente e prendo lo strumento matita, quindi adesso se disegno, il disegno finisce qua dietro dove ho messo il cursore e quindi diciamo dietro il gatto, questo mi rende la vita un po' più facile. avrò magari un cuscino e una parte del cuscino magari sta davanti al gatto, quindi vediamo un pochino, potrebbe essere così, adesso cancello. Una parte del disegno sarà anche davanti al gatto, allora adesso vado su linee, nasconderò il gatto per poter disegnare il cuscino per intero, prendo Ink Pen e permettetemi di essere un po' veloce, vado su colore e avrò bisogno del materiale, allora sarà meglio che scelga linee e non questo black che era già di default, in questo modo le linee del cuscino saranno le stesse del gatto, chiaramente se voi avete bisogno di un altro materiale, vedete che anche su questo oggetto Green Pencil posso scegliere i colori dell'altro oggetto Green Pencil, questo è molto comodo poter condividere i materiali tra oggetti diversi, cuscino, magari lo facciamo di colore azzurro, nascondo momentaneamente lo sketch, uso riempi, non si chiude, come andiamo a vedere di aumentare un po', ecco adesso ho tenuto di chiuderlo, però non sono venute molto bene queste, facciamo 0,2, vediamo, sì, mi serviva semplicemente chiudere questo puntino, adesso il cuscino ce l'ho e se riattivo il gatto, il cuscino si trova leggermente dietro, disegno una parte del cuscino anche davanti al gatto, quindi sposto il cursore qui davanti e sempre sulle linee del cuscino, con lo strumento disegna e con il materiale linee, disegno questi elementi davanti, e vedete che sono davanti, in modo tale che poi nel colore, se uso sempre lo strumento di riempimento, posso, ops, devo cambiare materiale con il materiale cuscino, vedete cosa è successo, ho disegnato questa parte del cuscino davanti, magari per tranquillità la posso ingrandire ancora di più, tanto le linee non vengono coperte dal colore, anche se sono dietro, vedete il vantaggio di avere comunque il posizionamento 2D layers, che il colore comunque sta dietro, anche se sta davanti da un punto di vista, ops, stavolto ho esagerato, devo farlo un po' meno, non ero nella visuale giusta, ecco, torno su linee e magari aggiusto un pochettino, adesso ho il vantaggio di avere un pezzo di cuscino che sta davanti, e un pezzo di cuscino che sta dietro, e di conseguenza se io vado in object mode, e sposto il gatto, vedete rimane sempre coperto dal cuscino, e questo è un bel vantaggio, eventualmente per il cuscino potrei anche decidere di cambiare la modalità di visualizzazione negli strokes in 3D location, facendo in questo modo, facendo 3D location, vedete evito quel glitch che c'era, nel quale il gatto ogni tanto si trovava davanti, qual è il problema? semplicemente che la linea del cuscino qua dietro, adesso se ne sta dietro, quindi devo andare in edit mode, la posso selezionare per intero, e la trascino davanti, e quindi in questo modo adesso se ne sta davanti, e quindi vedete questo, mi permette già di animare, per esempio con le normali curve di blender, la posizione del gatto, oppure anche la sua scala, per esempio sarebbe meglio che il gatto avesse il centro qua giù, in maniera tale, perché guardate se io adesso lo scalo, si scala rispetto al centro, però se io gli metto, posso spostare il cursore dall'alto, qui dove si trova il gatto, e quindi vedete adesso che il cursore è lì, posso fare tasto destro, set origin, origin to 3d cursor, adesso il cursore si trova laggiù, e se scalo il gatto in altezza, si scala lì, e quindi per esempio posso fare, che al fotogramma 1, abbia i scale, in questo modo, al fotogramma 20, mi ha salvato per qualche motivo, perché avevo la registrazione attiva, e quindi lo spostamento è stato registrato, allora per evitare questa cosa, disattivo ora la registrazione, e riporto il gatto, diciamo nella posizione in cui lo vorrei, e cancello completamente tutta la sua animazione, sotto Object, Animation, Clear Keyframes, Remove Animation, vedete, l'ho tolta del tutto, posso di nuovo ricominciare con i scale, e dopo 20 frame, per esempio scalo sull'asse Z, lo schiaccio un po', faccio i scale, e adesso se andiamo a guardare l'animazione, qui siamo ancora in modalità Grease Pencil, e quindi vedo solo le animazioni, che riguardano diciamo Grease Pencil, ma se mi sposto in Dope Sheet, vedo anche tutte le altre animazioni, in particolare le trasformazioni, vedete Object Transform, la scala sui vari assi, in particolare sull'asse Z, posso cancellare quelle degli altri due, qui vi consiglio di seguire un corso di animazione con Blender, per capire cosa succede, però per esempio adesso al fotogramma 40 annullo la scala, con Alt S, e faccio I di scala, e ovviamente di nuovo la scala X e Z mi viene salvata, però vedete, adesso il gatto fa questo piccolo movimento, e se seleziono questi keyframe della scala Z, quindi solo questi, posso con maiuscolo E, fare un make cyclic, make cyclic, e adesso, ciao e alla prossima!